Cioè tu ti stabilisci degli obiettivi di valore, se vuoi ottenere dei risultati devi avere degli obiettivi alti, obiettivi motivanti, l'obiettivo deve essere alto, questo è fondamentale, un obiettivo di valore molto importante, anche magari al di sopra delle tue aspettative, perché? Perché poi l'aspettativa deve essere bassa, tu non devi diventare schiavo di quell'obiettivo, l'obiettivo serve a mettere in moto tutto un sistema di motivazioni, a farti agire, a farti camminare, quindi l'obiettivo deve essere alto, le aspettative devono essere basse perché non deve avere attaccamento al risultato, l'obiettivo, il sogno ha la funzione di essere perseguito, alla nostra parte emotiva va bene già perseguire il sogno, perseguire l'obiettivo. Le aspettative devono essere basse e lo sforzo deve essere costante, perché attraverso uno sforzo costante, una dedizione, una motivazione costante, la goccia scava la pietra. Se tu insisti e persisti, come ci ho detto, insisti e persisti, raggiungi i conquisti, qualcosa del genere. Però dobbiamo quindi metterci in moto, quindi darci degli obiettivi alti, di valore, avere delle aspettative basse e impegnarci costantemente nel raggiungimento di questo obiettivo, che potrà cambiare l'obiettivo alla parte emotiva, non gli frega niente dell'oggetto di desiderio. La parte emotiva interessa avere delle motivazioni, agire, fare delle cose. E questo è quello che devi imparare a fare se vuoi ottenere dei risultati importanti nella tua vita. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, Iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!